I confortanti dati divulgati recentemente dall'area Vasta 1 sulle coperture vaccinali nel 2018 che dimostrano dati percentuali in incremento della popolazione vaccinata fanno ben sperare che la strada giusta verso la copertura di gregge sia stata imboccata. Ma quali sono le principali novità in ambito vaccinale recentemente emerse? Che cosa è successo nello specifico a livello nazionale nel 2018? E in prospettiva che cosa accadrà nel 2019? I cambiamenti introdotti dalla riforma Lorenzin a livello nazionale aprono nuovi scenari e nuove dinamiche soprattutto nella comunicazione che gioca sempre di più un ruolo determinante soprattutto nel far giungere il messaggio della scienza esatta e non quella delle emozioni a famiglie e cittadini per una scelta sempre più consapevole. Di questo e di cosa è successo nelle Marche si è parlato nel congresso medico che si è tenuto oggi a Fano con il patrocinio della società italiana di igiene sezione delle Marche. Noi mai da diverso tempo, soprattutto Fano, ha questo pregio, questo privilegio di avere introdotto l'importanza di una comunicazione nell'ambito dei vaccini. Già quattro anni fa, proprio qui a Fano, è nato quello che è chiamato Team Vax, cioè raccogliendo tutti i soggetti che a livello nazionale si occupano di comunicazione e soprattutto quelli che si occupano di contrastare le bufale. E allora proprio qui a Fano si è pensato di mettere insieme quelli che sono i soggetti che operano già nell'ambito dei social nel cercare di dare una comunicazione corretta, seria, scientifica e soprattutto quelli che hanno come compito di smascherare le bufale. Il congresso ha espresso anche contenuti di rilievo importanti, presentando agli iscritti, medici, operatori sanitari, unità di servizi di vaccinazione, infermieri, provenienti non solo da tutte le Marche ma anche da Emilia Romagna ed Umbria, le nuove linee guida regionali, strumento cardine che necessitava di una nuova stesura alla luce dell'implementazione delle attività di recupero vaccinali derivanti proprio dalla legge Lorenzin per risolvere il fenomeno degli esitanti. Le nostre prime linee guida nazionali nate nel 2003 non sono sicuramente più attuali alla luce di tutto quello che si è succeduto in questi ultimi anni. L'ultimo piano nazionale della prevenzione vaccinale 2017-2019 che ha allegato un calendario vaccinale cosiddetto per la vita che fa sì che le vaccinazioni devono essere offerte praticamente a tutte le fasce di età, anche perché poi oggi consideriamo che le vaccinazioni rientrano nei LEA, nei livelli essenziali di assistenza. Abbiamo proprio nelle linee guida inserito un capitolo importante proprio sulla comunicazione. I NOVAX, cioè quelli che non vogliono vaccinare, sono poco rappresentativi, rappresentano appena lo 0,7%, mentre gli esitanti sono quelle persone su cui bisogna lavorarci perché hanno un bisogno proprio di comunicazione, un bisogno di informare in maniera corretta.